sento che è arrivato il momento di chiudere un bellissimo capitolo della mia vita sono stati 21 anni indimenticabili sono cresciuto come giocatore e come uomo ho raggiunto traguardi e vissuto momenti che resteranno sempre nel mio cuore come al gol della vittoria del campionato a 23 anni ai giochi olimpici di vancouver rappresentando la mia nazione i momenti belli sono molti anzi moltissimi come tutte le persone che vorrei ringraziare per il loro sopporto e per avermi aiutato a realizzare i miei sogni il primo grazie va a tutti i tifosi della famiglia bianconera alla società alla mia famiglia alla mia compagna ai miei amici allo spogliatoio ai miei compagni di squadra allo staff dell'hcl a tutti quelli che mi sono stati accanto in questa fantastica avventura lo che resta e resterà sempre la mia passione ci vediamo in pista